TG Sport Quattordecisima giornata Cessistica Orvieto Palermo 41 a 93 Bologna Forlì 70 a 61 San Giovanni Valdarno Pistoia 76 a 75 Selargius Faenza 74 a 70 Atena Roma Elite Roma 66 a 60 Cessistica Savonese Spezzina 57 a 74 Civitanova Marche Cuscaia di 67 a 61 Dumberti della Monizana Campobasso 60 a 57 In testa la Monizana Campobasso 26 a 22 Palermo Spezzina a 20 Bologna 18 a Umberti San Giovanni Valdarno 16 punti Selargius 14 Cuscaia Recivita Nova Marche 12 punti Atena Roma Elite Roma 10 punti 8 per Pistoia 6 Cessistica Savonese e Cessistica Orvieto chiude a 2 Il Forlì Il 2019 si è aperto con la prima sconfitta stagionale per la Molisana Basket Campobasso Ospite dell'Umbertide Nella lunga trasferta ombra arriva il primo stop stagionale per la Molisana Basket Campobasso L'Umbertide ferma a 13 successi consecutivi delle Molisane che restano sempre al comando dell'agronatoria con 4 punti di vantaggio dal Palermo e dallo Spezzina Il palazzetto della provincia di Perugia non è stato mai violato in questa stagione Gara giocata sempre in equilibrio con le Rosso Blu, Marangoni e Bove che mantengono il fiato sul collo alle padroni di casa Le triple di Paolocci e Prosperi permettono all'Umbertide di respingere gli attacchi delle Molisane e di chiudere i primi 10 minuti sul più 2, 19 e 17 Nel secondo periodo intorno a Ciavarella Campobasso prova a mettere in più di una circostanza la testa avanti prendendo anche due possessi di vantaggio sul 21-27 ma le Umbre non mollano e all'intervallo lungo inseguono sul meno 2, 32-34 il parziale sul tabellone luminoso Dal rientro dagli spogliatoi le ragazze di Coce Sabatelli provano ad allungare Marangoni e Ciavarella firmano un break di 6-0 che vale il 37-40 Prologo però ad un nuovo forcing delle Umbre che tra triple, canestre sulla sirena e giochi da 3 punti mettono insieme un break di 9-2 andando sul 46-42 bloccato da un canestro di Porco Ultimo quarto in salita per le Magnolie si gioca punto a punto con continui tentativi di strappo dall'una e dall'altra parte a pochi secondi dalla sirena l'Umbertide sul più 3 prima Ciavarella, poi Marangoni falliscono la tripla del possibile supplementare 60-57 il definitivo questo K.O. non cambia le ammizioni delle Rosso-Blu chiamate ad analizzare le pecche della gara di Umbertide e al pronto riscatto sabato al Palavazzieri contro l'Orvieto ultima gara del girone di andata Adesso il calcio di serie D prima di ritorno prima del girone di ritorno Campobasso San Giustese rinviata Cesena Avezzano 3-1 rinviata Esernia Forlì Iesina Recanatese 0-0 Montegiorgio Sammorese 1-0 Notaresco Castelfilardo 1-0 Pineto Francavilla 0-0 rinviata Giuliano Limpianionese Savignanese Sant'Arcangelo 2-1 Vastese Matelica 2-1 In testa c'è sempre il Cesena a quota 47 Matelica 40-33 per San Giustese Pineto Recanatese E Notaresco 31 Francavilla 26 per Vastese Montegiorgio Sammorese 25 Giuliano 24 Colla Savignanese 21 Campobasso Sant'Arcangelo 20 Iesina 19 Forlì Avezzano 18 17 Limpianionese Esernia Chiude a 12 il Castelfilardo Il maltempo soprattutto la neve non ha permesso alle molisane di aprire il Girone di Ritorno 12 reti in 7 partite giocate nella prima di Ritorno in Serie D Girone F con due pareggi senza gol cioè quello del derby fra Pineto e Francavilla e quello del Carotti di Iesi fra i locali e la Re Canatese il Cesena riprende come aveva finito cioè vincendo per la sesta volta consecutiva e non senza qualche patema d'animo a farne le spese un Avezzano che era passato in vantaggio salvo poi essere ripreso e superato da un gol di Ricciardo e da una doppietta di Alessandro Romagnoli a più 7 dal Matelica un vuoto che i marchigiani non sembra siano in grado di riempire per ora considerato lo stato di forma davvero precario il Matelica non sa più vincere la conferma è giunta ieri dallo stadio Aragona di Vasto dove i locali si sono imposti 2 a 1 grazie a Leonetti e Sbardella inutile il gol del Matelica nel finale per la cronaca i marchigiani avevano colpito un palo ed una traversa sul punteggio di 0 a 0 del pareggio fra Pineto e Francavilla ha tratto vantaggio il notaresco che battendo di misura un Castelfidardo sempre più ultimo ha agganciato proprio i prossimi avversari del Campobasso gran bel salto in avanti del Monte Giorgio che ha battuto in casa una San Maurese troppo sterile per il resto la classifica sembra aver mantenuto pressa poco la stessa fisionomia di fine girone di andata con una leggera caduta da registrare per il Sant'Arcangelo sconfitto 2 a 1 nel derby tutto romagnolo contro la Savignanese sembra che al momento critico in fatto di risultati del Sant'Arcangelo si accompagni una situazione societaria non altrettanto serena si prevedono una serie di richieste in sequenza per giocare in anticipo il prossimo turno in vista dell'infrasettimanale del 16 prossimo Francavilla Campobasso si giocherà sabato alle 14 per un guasto al sistema di illuminazione dello stadio abruzzese la società ospitante chiedendo anche l'anticipo dell'orario intende sfruttare una fascia di luce naturale più ampia il Campobasso è partito stamane poco dopo le 9 alla volta di Francavilla si allenerà nel centro costiero nel capoluogo infatti causa campi nevati sarebbe stato difficile allenarsi dal punto di vista logistico la squadra e lo staff sono partiti con largo anticipo segnale anche di grande serietà da parte della società Rosso Blu nelle ultime ore alcuni tifosi armati di buona volontà si sono attivati per rimuovere i cumuli di neve sul terreno di Silvapiana e sullo spazio antistante gli spogliatoi San Giustese Isernia si giocherà molto probabilmente di sabato questa è stata la richiesta inoltrata dalla società Pentra a quella marchigiana la squadra riprenderà ad allenarsi in giornata in campi al chiuso a causa della neve come è successo sabato scorso quando i ragazzi di Silva si sono dovuti trasferire nella vicina località di Carpinone ad Agnone Foglia Manzillo ha concesso due giorni di riposo ai suoi i Granata riprenderanno a sudare domani sul campo di Roccaravindola gentilmente concesso per gli allenamenti dell'Olimpia alla ripresa del torneo i Granata dovranno certamente ospitare la capolista Cesena ma il problema inizia ad essere il luogo il nuovo sintetico del Civitelle fresco di posa necessita ancora di qualche dettaglio prima di poter essere calpestato ma il reale problema adesso è la coltre spessa circa 80 centimetri che si è depositata sullo stesso non solo dunque lavori da ultimare ma anche la neve si è frapposta all'inaugurazione ad oggi appare veramente difficile che la gara contro la capolista si possa disputare ad Agnone dirigenza attiva per reperire un campo alternativo che potrebbe essere nuovamente quello di Trivento sarà una settimana complessa per l'Olimpia e la ciliegina sulla torta sarà proprio la visita di un Cesena che da un mese e mezzo a questa parte sa solo vincere ieri durante la trasmissione domenica sport è intervenuto telefonicamente il presidente del Campobasso Nicola Circelli insomma avete azzerato qualcosa come 500 mila euro sì siamo arrivati quasi alla cifra di mezzo milione manca ancora qualcos'altro che va ancora sistemato insomma però diciamo che abbiamo tempo fino a maggio i tifosi possono stare tranquilli perché cercheremo di partire l'anno prossimo senza alcun tipo di problema e nei termini dovuti come tutte le società dovrebbero fare però purtroppo sappiamo che non è facile senti l'ultima tegola sono stati questi 75 mila euro per altre vertenze dell'anno scorso sì vertenze che partivano già dall'altra società noi eravamo a conoscenza però voglio dire non potevamo fare niente perché nessun tipo di intervento potevamo fare perché già erano partite in mano all'altra società la scadenza insomma per saldare queste queste vertenze non era come si diceva entro il 2 abbiamo un altro po' di tempo non è quello però non è un problema vanno vanno risolti pure queste altre ultime questi altri ultimi impegni diciamo così per quanto riguarda il progetto principale era quello di rilevare una società che sapevamo non in modo preciso la situazione qual era e lo abbiamo fatto perché pensiamo che la città i tifosi la regione meriti una squadra in una categoria diversa che è quella della serie D sicuramente categorie superiori e pensiamo di poterci riuscire con questo non vogliamo promettere niente niente di più di quello che stiamo facendo o meglio vogliamo farlo per tempo quest'anno è un anno di passaggio un anno di passaggio in questa categoria cercando di mantenerla e l'anno prossimo lavorare per cercare di passare nella categoria superiore per quanto riguarda quest'anno noi abbiamo costruito una squadra all'ultimo minuto ai primi di agosto subito partito in ritiro poi rientrati siamo partiti diciamo in ritardo rispetto agli altri ma allo stesso tempo sono convinto tutt'oggi purtroppo i risultati non mi danno ragione ma ne sono convinto per quello che avevamo fatto che avevamo comunque una squadra valida solo che per i tempi per la piazza che non è una piazza semplice per tutto quello che circonda questo ambiente diciamo non siamo riusciti ad amalgamare i calciatori che avevamo la prova che avevamo degli ottimi calciatori è che oggi si trovano in squadre che lottano per vincere la stessa categoria in altri gironi come Lavellino come D'Alta Lavellino Spinelli a un'altra come si chiama il girone D adesso non mi viene però voglio dire avevamo comunque degli ottimi calciatori purtroppo è arrivato il punto che i risultati non arrivavano e qualcosa bisognava fare insomma inizialmente si è scelto di cambiare l'allenatore anche se ritengo che Bruno Mandragola era comunque ad altezza però sono i vari passaggi che nel mondo del calcio vanno fatti e le varie decisioni che vanno prese in modo prioritario si parte dall'allenatore dallo staff e se poi la cosa continua a non funzionare purtroppo vanno cambiati i calciatori abbiamo cambiato se non erro 13 12 calciatori sono rientrati insieme al nuovo mister con un altro spirito hanno capito il progetto Campobasso il progetto di questa società che non è quella di una società di passaggio nel tentare o nel provare ma è una società che ci crede sta investendo nella città sta investendo nella squadra e si augura che prima o poi la città sia vicina a questa società anche perché portiamo avanti il nome del Campobasso e portiamo avanti la squadra della città di Campobasso Calcio a 5 di Serie B Undicesima giornata CLN Cus Molise Corinaldo è stata rinviata Cus Sancona Bulldog Lucrezia 7 a 5 Tabeta Futsal Chaminade 4 a 4 Futsal Ascle Favenzia 2 a 6 Real Dem Chieti 2 a 4 Visgubbio Gattek 2012 a 5 In testa c'è la Bulldog Lucrezia 25 Chieti 20 Cus Sancona 19 con la Chaminade Favenzia 18 16 per il Cus Molise insieme alla Visgubbio e insieme anche all'Eta Beta Futsal Real Dem 15 13 Futsal Ascle 7 Corinaldo 3 Gattek La Chaminade Campobasso ha lasciato Fano con un pareggio 4 a 4 il finale in casa dell'Eta Beta ha perso ancora la capolista Lucrezia in casa del Cus Sancona per 7 a 5 Marchigiani prossimi avversari dei Molisani rinviata la gara interna del Cus Molise contro il Corinaldo che si giocherà il 2 febbraio Calcio giovanile al Pescara la prima edizione del Torneo dell'Epifania ospitato ed organizzato dai Santi Pietro e Paolo Il Pescara si aggiudica il Trofeo dell'Epifania svoltosi proprio nella giornata della Befana al Via Biferno il rettangolo della Polisportiva Santissimi Pietro e Paolo di Termoli che ha organizzato questa manifestazione in campo tre squadre per tre confronti di 45 minuti sono due società professionistiche il Pescara ed il Foggia e la società organizzatrice la Polisportiva Santissimi Pietro e Paolo di Termoli che nella prima gara ha battuto il Foggia per 2 a 1 grazie ai sigilli realizzati nel primo tempo da De Luca dopo pochissimi giri di rancette il raddoppio di De Gregorio e poi nel finale il giocatore del Foggia il giocatore con la casacca numero 11 Samiele riusciva a ridurre lo svantaggio nella seconda partita Re Pescara in campo quale prima gara per la formazione abruzzese ad imporsi per 3 a 2 con il vantaggio degli abruzzesi al quindicesimo sul cross perfetto dello stratosferico di Homme palle e mezzo per la conclusione vincente di Stampella sotto l'incrocio dei pali nella ripresa Stampella riusciva a realizzare il bis sull'indecisione dell'estremo difensore Matera che ci metteva tempo ad andare al rinvio sul cross di Polichetti al quinto Samiele riusciva a girare benissimo sotto rete riuscendo a rimettere in careggiata il Foggia per il 2 a 1 un rigore di Cerri al 9 al 9 parato da Matera e poi il rigore definitivo di Cerri dava in là la vittoria al Pescara che al diciannovesimo allungava il discorso a 3 a 1 grazie a Cerri che trasformava dal dischetto impeccabile il Romano nel finale Stasi con un grandissimo gol dal limite dell'area di rigore rendeva meno amara la sconfitta per il Foggia e siamo alla finalissima che si è giocata davanti a un ottimo pubblico e tra l'altro in una mattinata soleggiata alla via Biferno al tredicesimo il Pescara pericoloso con la conclusione di Diom con la sua conclusione con la sfera che terminava sull'esterno della rete al quindicesimo arrivava il gol quello che praticamente consegnava poi il trofeo al Pescara un'indecisione in area di rigore con Di Lario che era toccato sul piede d'appoggio l'ottimo direttore di gara Simone Renato era lì a due passi concedeva il rigore che Di Lario andava a trasformare spiazzando l'estremo difensore del San Pietro Capuano si faceva vedere il San Pietro che cresceva al diciassettesimo la conclusione di Barbieri con il tiro a giro con la sfera sul fondo nella ripresa il nuovo entrato con la bella rendeva ancora più vivace la prestazione dei Termolesi con la conclusione con il sinistro che l'estremo difensore Emili riusciva a ribattere in tuffo al quarto ci provava il Pescara con Cavaliere ma la sua conclusione terminava sul fondo con Capuano che poteva tranquillamente controllare la sfera undicesimo ancora pericoloso il Pescara con Cerri che di forza andava alla conclusione ribatteva Capuano con i pugni uniti quindicesimo ancora un tiro cross questa volta di Pardi che costringeva Emili all'intervento importante al diciassettesimo San Pietro vicino al gol del pareggio l'angolo disegnato da Colabella non veniva finalizzato sottoporta da Letto di testa finiva qua finita qua con la vittoria del Pescara che si imposta nella finalissima contro il San Pietro per 1-0 a proposito della formazione abruzzese ai nostri microfoni il tecnico mister Felice Mancini ex giocatore del settore regionale della Roma ex giocatore del Pescara indimenticato con Zeman ti rivediamo con piacere bella manifestazione questa soprattutto perché mi fa mantenere il ritmo partita del campionato visto che voi fate il campionato nazionale allievi l'avete disputata a termine tra l'altro avete anche beccato la giornata eccezionale soleggiata tra l'altro avete vinto questo trofeo una vittoria simbolica sicuramente ma è servita anche per rodare un po' gli schemi e per mettere in vetrina questa tua formazione sì innanzitutto ringraziamo la società San Pietro e Paolo per averci invitato perché a noi fa sempre piacere partecipare a queste manifestazioni nello stesso tempo ci permette di poterci preparare al campionato che ricomincerà domenica un partito importante a livello nazionale per quanto riguarda il torneo sono state due belle partite impegnative anche perché ho saputo ora che eravamo sotto età quindi noi 2003 con il 2002 quindi fa sempre piacere partecipare come dici tu è sempre anche bello vincere perché questi ragazzi oltre a crescere come uomini e come persone devono anche imparare che se fanno lo sport bisogna sempre avere un obiettivo e oggi diciamo che la vittoria fa piacere ci dà morale per ricominciare senti c'è una fetta del tuo cuore qui in Molise sì sì io ho papà che era originario di Frosolone quindi diciamo che poi mi porta bene il Molise perché 3-4 anni fa se non ricordo con i giovanissimi ho vinto l'ultimo torneo a campo basso oggi vinco qua quindi un po' le origini molisane mi danno una mano senti questo Pescara vabbè sta in serie B sta cercando di rottare per andare in serie A però ha l'occhio puntato sul settore giovanile perché è il bacino per il futuro il serbatoio per il futuro il settore giovanile sì noi è una piazza importante dove dobbiamo sempre far bene a livello di prima squadra però è anche c'è un occhio di riguardo per il settore giovanile noi lavoriamo proprio per far crescere i nostri ragazzi ormai sono quasi 10 anni 11 anni che sono del settore giovanile l'obiettivo primario è sempre quello di far bene con la prima squadra di mantenere la categoria se è possibile come abbiamo fatto anche altri anni arrivare in serie A però la società cura sempre il settore giovanile abbiamo avuto molti ragazzi che sono andati in orbita nazionale che poi vengono presi a fine di ogni anno da società più importanti quindi per noi vincere un campionato è questo qua non tanto la vittoria in mezzo al campo anche il San Pietro è riuscito a starvi di fronte nel migliore dei modi visto che il Foggia l'avete battuto alla grande il San Pietro però vi ha messo un po' in difficoltà questa piccola società è una realtà molisana però alla fine comunque è riuscito a fronteggiarvi sì sì è stata difficile dobbiamo parlare tra virgolette della partita loro alla fine meritavano anche il pareggio perché hanno avuto due occasioni per far gol poi sai a livello di settore giovanile gli episodi che fanno la differenza però il San Pietro e Paolo ha tenuto testa tranquillamente la nostra squadra poi credo che faccia un campionato sempre importante con tutte le sue categorie ed è anche una squadra dove noi siamo sempre attenti se esce fuori qualche talento abbiamo una collaborazione importante con loro e siamo contentissimi di poterci mettere a disposizione per la crescita sia loro che da parte anche nostra Calcio regionale il maltempo ha fermato tutte le attività calcistiche nel Molise la FIGC regionale ha stabilito lo slittamento di tutti i campionati per le squadre d'eccellenza e promozione annullata la sosta del primo weekend di febbraio sabato 2 si giocherà il campionato con la quarta di ritorno domenica 3 in campo per la finale di Coppa Italia le finaliste Treppini Sporting Matese e Comprensorio Vairano recupereranno la partita di campionato con un turno infrasettimanale un'azienda sempre vicina allo sport dal calcio alle bocce la CISAR ha inaugurato sabato il suo nuovo punto vendita nella zona industriale di Campobasso Michele Mangione dunque inaugurazione di un nuovo ma punto vendita e riduttivo insomma perché stavate prima insomma nella zona industriale di Ripalimosani adesso questo capannone nella zona industriale di Campobasso evidentemente dà anche un altro respiro all'attività sì sicuramente avevamo bisogno di fare il salto di qualità che grazie a tutti coloro che ci sono intorno abbiamo fatto perché ci è voluto veramente tanto tanto sacrificio e vogliamo sempre dare il meglio della nostra azienda della nostra esperienza a tutti quanti i nostri clienti io vorrei fare qualche ringraziamento ma tanto diciamo frase scontata però veramente devo ringraziare tutta la famiglia perché veramente ci siamo dati da fare da tre mesi a questa parte e un grazie particolare ai nostri clienti che ci hanno permesso oggi ci hanno dato fiducia per arrivare dove siamo arrivati e un grazie particolare ai nostri collaboratori i nostri ragazzi che veramente in questi giorni hanno fatto i salti mortali lavorando ininterrottamente e a tutti gli amici che in questi giorni veramente ci hanno dato aiuto e manforte un grazie particolare a tutti ecco la CISAR insomma come sede principale è a Frosolone insomma spazia dal termico all'idraulico insomma all'arreto bagno e non solo quindi è un'attività insomma in pieno fermento in pieno sviluppo che tra l'altro ha deciso di fare questo investimento insomma in un momento che non è proprio di boom economico sì veramente è stato un investimento voluto soprattutto da papà che negli anni cercava di fare questo tipo di investimento ci siamo riusciti con tanto sacrificio e abbiamo cercato anche di dare delle risposte al mercato che in un momento del genere non ne ha soprattutto con l'inserimento dello showroom via Solferino che oggi ci identifica come uno dei prodotti di altissima qualità dove veramente possiamo fare la differenza dove è prevista anche una collaborazione con il cliente insieme a degli esperti del settore proprio per cercare le migliori soluzioni d'arredo sì infatti non per niente abbiamo creato una sala riunioni e corsi appositamente per cercare di dare la possibilità sia alle persone che vogliono crescere ma soprattutto ai tecnici agli architetti agli ingegneri che potranno trovare qui sicuramente disponibilità competenza e creare da zero la soluzione giusta per la propria ambiente è lunedì quindi sono iniziati di nuovo i campionati anche se nel Molise si è giocato pochissimo anche non si è giocato anzi non si è giocato assolutamente al calcio lo scorso fine settimana però insomma torna anche la nostra trasmissione del lunedì Molise a calci quindi questa sera alle 21 insieme a Gianni Bruno e Leonora D'Aversa avremo ospiti commenti e naturalmente tutto quello che riguarda la situazione delle squadre molisane praticamente al giro di Boa dei campionati quindi appuntamento con Molise a calci questa sera alle 21 sempre e solo su Tele Molise bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio a buon pomeriggio Grazie a tutti.